...2009, via Canaro, siamo alle spalle di Viale Padova, probabilmente qui lo spazio a neve non è passato e questo è come si presenta la via. La Marchesana è la tecla di via Ponte Nuori, sembra quasi un paesaggio da schiava. Via Cacchinobelli, siamo sempre alla tecla di via Ponte Nuovo e anche quelli spazio a neve non sono passati. Via Padova, come vedete anche qui le strade non sono messe meglio, questa è la carreggiata, però si arriva in piazzalevole e magicamente il tondo della piazza è scombero. L'ambulante, il 118, dice che fino adesso sono le 10.30, sono stati effettuati, 700 interventi per accompagnare pazienti in ospedale che di solito andrebbero per conto loro o per piccoli incidenti, piccoli tamponamenti. Mentre i vigili del fuoco segnalano sia a Milano che fuori Milano e l'Interland diverse cadute di alberi o alberi pericolanti. Vi ho fatto bene i fratellini per chi la cottura, c'è chi scava e chi si va via la neve con l'acqua. A Milano è tutta la neve, sembra ancora Natale.